Il regolamento prescrive di condurre una valutazione di biocompatibilità per tutte le classi di dispositivi medici, comprese la classe E1. Per quanto riguarda il piano di valutazione di biocompatibilità, prevede o razionali o test eseguiti su dispositivi medici secondo la serie ISO 10993. Quindi le eventuali esclusioni dei test di biocompatibilità devono essere ben supportate dalla documentazione specifica. Inoltre tutta la documentazione deve essere presentata in maniera chiara e non ambigua.